rivolgiamo con noi sul palco, Mr. Cristiano, scelta la voce! hanno detto che, hanno detto dall'organizzazione che le panche non sono inchiodate perciò se volete portarle qui davanti a noi fa solo bene anche perché non riconosciamo chi non ha un applauso da qui, dopo non possiamo far giù che ne so, partiamo, ripartiamo Alman Brothers I'm a proud, baby, looking for someone to satisfy my knees So I'm worried, somehow, that I find somebody spent some time with me I'm looking down forever, just a moment that I'm feeling down my head It looks so good, got me, baby, I'm satisfied with my soul tonight Oh, 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 oh Come on out tomorrow, come on out tomorrow, I'm a proud, 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 I'm a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.